Il regolamento del programma, cambiato all'ultimo, ha fatto storcere il naso a più di qualche telespettatore. Il pinguino del cantante mascherato è Edoardo Vianello. Ci aveva visto giusto Caterina Balivo, che fin dalla prima puntata della terza edizione aveva puntato sul cantante romano senza mai cambiare idea. L'artista ha vinto lo spareggio iniziale della terza serata contro il Drago ma ha deciso di ritirarsi perché stanco di portare il peso di questa maschera. La decisione di Vianello 83 anni è stata annunciata da Millie Carlucci solo dopo la vittoria del pinguino. Tanto è bastato a scatenare l'ira dei telespettatori, molti, moltissimi, sui social network si sono indignati per il fatto di aver votato una maschera che già prima della puntata aveva preso la decisione di ritirarsi indipendentemente dal risultato. Edoardo aveva infatti confidato a Millie Carlucci la volontà di lasciare il cantante mascherato ma allo stesso gareggiato contro il Drago. La Carlucci ha spiegato che la maschera del pinguino tornerà nella prossima puntata con un'altra identità ma questa scelta non è proprio piaciuta al pubblico. Parecchi hanno parlato di pongo regolamento la stessa giurata Arisa ha notato che le regole cambiano di volta in volta e c'è addirittura chi non ha capito il motivo per il quale Drago, che è stato il meno votato, non sia stato smascherato. Con Pinguino Edoardo Vianello salgono a quattro gli eliminati della terza edizione del cantante mascherato 2022. Fuori dai giochi Piur Gallina Fiordaliso Aquila Alba Parietti Cavalluccio Marino Cristina Davena Quattro gli eliminati della terza edizione della terza edizione del Quattro gli eliminati della terza edizione della terza edizione del Quattro gli eliminati della terza edizione del